monologo tratto dalla commedia di anna di meglio natale e pasqua dove aurelio chiamasse il figlio luca per chiarire una incomprensione nata fra di loro luca rie ti ricordi quando scherzando la mattina ti svegliavo come nella commedia di eduardo de filippo ti ricordi luca rie siete cason che no e tu scherzando mi rispondevi voglia su pelatta io facevi il padre tu facevi il figlio come nella commedia i due si amavano svisceratamente ma non se lo dimostravano eppure noi stiamo facendo lo stesso errore tu mi sei figlio e i figli si amano per quelli che sono eppure i padri si amano per quelli che sono abbiamo la fortuna di essere una famiglia unita e questo oggi è già tonto unita e sfuggente io conosco il tuo problema se di problema si può parlare mi hai capito e non voglio vederti sbandato nella solitudine io sto qua ti apre il mio cuore e per quello che posso dire ti darò tutta la mia comprensione e se non te la do io che ti ho messo al mondo chi vuoi che te la dia sarà difficile all'inizio poter parlare ma con un poco di buona di buona volontà da parte di tutti quanti vedrai che le cose verranno fuori più facilmente lucare figlio mio incomincieremo figlio mio incomincieremo